Ecco qua, siamo con il presidentissimo della sessione della Lazio Padel, il dottor Loris Cristian Festa. Allora, non poteva che cominciare meglio questa prima... Sì, siamo molto contenti perché comunque questa giornata segna l'esordio della SS Lazio Padel nel mondo agonistico e questo ci rende particolarmente fieri di aver oggi messo un primo sassolino nello stagno e devo dire con grande soddisfazione. Grande soddisfazione prima di tutto per i nostri atleti che hanno portato a casa un risultato importante e con grande soddisfazione di noi, del gruppo dirigente, che abbiamo certamente oggi capito che le energie profuse sono state spese, devo dire, nel migliore dei modi. Presidente, l'obiettivo che è la sessione del Padel, l'obiettivo quello prossimo qual è e soprattutto poi il progetto un po' più a lungo termine qual è? Allora, noi abbiamo adesso questo campionato giunto, come sapete, oggi alla seconda giornata. La prima la dobbiamo recuperare perché abbiamo avuto un problema di cattivo tempo, ma insomma prossima partita ce l'avremo fuori casa con il Sabaldia so che una partita mi aggiornavano impegnativa, ma insomma noi ce la metteremo tutta. Progetti sono quelli di cercare quanto più velocemente possibile di fare un po' la scalata alle varie serie che abbiamo da dover affrontare ma certamente c'è un progetto ambizioso che è quello di poterci affermare velocemente in ciascuna delle categorie in cui saremo impegnati e poi arrivare alla massima serie con una squadra sicuramente accorsata e ben organizzata. Questo è quello che vorremmo cercare di fare ma è quello su cui stiamo lavorando molto. Questo è un progetto nobile, quindi non ci resta che augurare alla Lazio Padel lunga vita e soprattutto il raggiungimento dei traguardi che lei ha prefissato nel breve e nel lungo termine. Vi ringrazio, so che ci seguite molto e mi fa piacere che questa vostra attività, parlo della voce dei Laziali, prosegua con grande entusiasmo e anzi che questo vostro impegno sia poi duplicato in maniera modulare anche per tutte le sezioni del nostro sistema Lazio che come voi sapete è fatto di decine e decine di società sportive che meritano certamente di essere seguite e la nostra tifoseria merita di essere informata nella maniera in cui voi sapete fare. Io vi ringrazio. Grazie a lei Presidente, in caso di dire Forza Lazio, diamo appuntamento a tutti i nostri tifosi sempre sul nostro canale e soprattutto un invito a seguire la sezione del Padel perché vi garantisco anche per noi oggi è stato l'esordio, è veramente uno sport molto bello oltre che nobile. Quindi grazie Presidente, in becco all'Aquila. In becco all'Aquila, come dice sempre il nostro anche Presidente Generale. Grazie Presidente.